La ristrutturata palestra della scuola elementare Lombardo Radice di Patti è stata intitolata alla indimenticata campionessa mondiale ed europea di marcia Anna Rita Sidoti. La lapide è stata scoperta dal figlio minore della campionessa Alberto, alla presenza del dirigente scolastico Pina Pizzo, del sindaco di Patti Mauro Aquino, del professore Salvatore Coletta, lo storico allenatore della campionessa, da Nunzio Scolaro, delegato del Cone di Messina e presidente della FIDAL provinciale, e dai Pietro Strino, marito di Anna Rita. Un'emozione forte è stata vissuta quando i ragazzi, contraddistinti da magliette rosse, bianche e verdi, hanno cantato l'inno nazionale. Altro momento di forte commozione è stato vissuto quando la maestra Katia Catani e la luna della Lombardo Radice, Eia Aduidi, hanno cantato Leggera come l'aria, brano composto dal poeta di Brollo, Rosario Lagreca, dedicato proprio alla campionessa, prematuramente scomparse il 21 maggio 2015 per un mare incurabile. Di seguito spazio alle gare, che hanno coinvolto gli alunni delle sezioni di scuola elementare delle medie, della vellina e di montagna reale dell'istituto comprensivo Lombardo Radice. Si sono cimentati nella velocità, nel salto in lungo da fermo, mezzo fondo e marcia. L'organizzazione dell'evento è stata curata da Santo De Luca Gaglio, Stefania Voscarelli, esperto progetto sport di classe, Maria Teresa Schirò, Tindaro Carro e Primo Pocoroba.